rivoluzione rifiuti arrivano i cassonetti intelligenti parco miralfiore 400 firme per chiedere un cambio di gestione nelle marche 19 incidenti mortali sul lavoro in metà 2022 impianto agrivoltaico a cartoceto la regione da parere negativo basket calcio e rugby solo vittoria nel weekend sportivo pesarese una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di lunedì 10 di ottobre apriamo occupandoci della rivoluzione in partenza nel centro storico dei pesaro per quello che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti questa mattina infatti comune e marche e molti servizi hanno presentato la novità che dopo anni vedrà abbandonare la raccolta porta a porta in favore degli innovativi cassonetti intelligenti da lunedì 24 ottobre il centro storico di pesaro cercherà di risultare più pulito più profumato e più evoluto in che modo da quel giorno partiranno ufficialmente sei mesi di sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata con il posizionamento di nuovi cassonetti intelligenti in diverse aree del centro i residenti coinvolti in questa diversa pratica di smaltimento dei propri rifiuti disporranno di una carta smeraldo due per ogni famiglia e che verrà consegnata loro nei prossimi giorni la carta smeraldo sarà l'unico elemento indispensabile per poter conferire il rifiuto nell'apposito contenitore e che permetterà dunque solamente ai residenti di poter utilizzare i cassonetti un cambio di passo importante arrivato da un accordo siglato tra l'azienda che opera nei servizi di pubblica utilità ovvero marche multiservizi e il comune di pesaro in accordo hanno pensato di programmare tre incontri con gli abitanti del centro storico per illustrare la nuova modalità di raccolta differenziata stiamo partendo con la raccolta di prossimità e non più con il porta a porte in una parte di centro storico diciamo nel settore a abbiamo diviso la ztl in quattro settori a b c e d individuando 24 nuovi punti di raccolta questa prima operazione parte sulla zona a sono sei punti di raccolta che permetteranno ai cittadini di conferire i loro rifiuti in questi contenitori che sono oggetti oggettivamente carini sono contenitori d'arredo che sono già stati sperimentati in altre città con un buon successo ovviamente l'aspetto positivo è che non avremo più i sacchetti in giro per la strada compatibilmente con l'educazione dei singoli perché noi parliamo sempre di massimi sistemi però è sempre il singolo che fa la differenza un altro problema è che in una zona già sofferente come la ztl andremo a togliere alcuni posti auto ci siamo attrezzati abbiamo già individuato altre aree sostitutive con aree cialde riservate appunto a chi abita chi ha l'auto in ztl quindi un'operazione complessa sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista economico che richiede però grande collaborazione da parte dei cittadini perché alla fine è il singolo che fa la differenza abbiamo un modello di prossimità dove invece di avere un calendario con i giorni e con degli orari predefiniti si potrà avere la possibilità di accedere alle nuove isole ecologiche informatizzate 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Quello dei cassonetti intelligenti è anche un invito ai cittadini a seguire la buona pratica della raccolta differenziata e Marche Multiservizi ha pensato di fare in questo modo. Costruire un sistema virtuoso per premiare chi si comporta bene quindi abbiamo daremo nelle prossime assemblee di identificazione per il kit per le tessere esmeraldo anche la possibilità di una serie di adesivi che sono riconoscibili all'utenza con i quali su base volontaria chiunque potrà segnalare il proprio sacchettino dell'indifferenziato per far vedere che ha fatto bene la sua appunto raccolta differenziata indifferenziata. Ogni 15 giorni saranno premiati 5 cittadini virtuosi con un buono spesa di 30 euro che è un segnale positivo per continuare su questa strada della correttezza nella raccolta differenziata. È un progetto importante strategico che abbiamo impostato concentrando tutti i dettagli, è un investimento che richiede dal punto di vista economico finanziario ma anche organizzativo un impegno che crediamo di aver messo al meglio per cui questo ovviamente ci teniamo a ribadirlo non è un passo indietro nel processo di economia circolare quindi il passaggio dal porta a porta a questa modalità è tutt'altro e quindi un avanzamento in termini di qualità della materia raccolta però ovviamente è fondamentale la collaborazione dei cittadini. Oltre 400 firme raccolte per chiedere una gestione diversa del parco Miralfiore e quanto chiede la rete di associazioni ambientaliste La Voce del Miralfiore che ieri mattina ha radunato tanti pesaresi al cospetto di proteste e proposte sul principale polmone verde cittadino. Vediamo. Ora basta il parco esige rispetto. Uno slogan coreografico a sintetizzare il senso di una domenica mattina al parco Miralfiore che ha radunato circa 200 persone unite da proteste e proposte. Quelle cavalcate dalla rete di associazioni ambientaliste La Voce del Miralfiore che fra stand al parco e banchetti in centro storico ha raccolto oltre 400 firme su una petizione che chiede una gestione diversa del parco. Una gestione che sospenda tagli scriteriati del verde poschivo in nome della sicurezza che individui professionisti dell'ambiente da inserire in un comitato di gestione che preveda a bilancio comunale una voce di spesa specifica per il principale polmone verde cittadino. Un parco come questo che è unico perché nelle marche non ce n'è un altro con tutti questi valori naturalistici e ambientali non si può gestire con la motosega e il trinciatutto. Qui si opera di cesello perché tutto quello che c'è o è un'eredità del passato o è stato voluto fortemente in fase progettuale per offrire alle persone delle sensazioni, delle emozioni, delle conoscenze. Quindi la gestione che chiediamo, che vorremmo, è una gestione che sia attenta alla fisiologia delle piante. Tagliare come hanno fatto qui è una cosa inverosimile, non la fanno da nessuna parte. Si dice che tutti questi tagli vengono fatti per la sicurezza. Facciamo un giro insieme lungo la recensione, vi faccio vedere quanti barchi ci sono da cui può entrare chiunque e poi da quando la gestione si fa tagliando quello che devi gestire. Sarebbe come se il dentista chiedete di mettere a posto i denti, ve li toglie tutti così il problema è eliminato. Certo non ce l'hai più ma non hai più neanche i denti. Una cosa che la gente deve capire anche quando non sono magari appassionati di boschi è che un bosco, anche se è fitto, anche se non ti piace e ti fa paura, ha una funzione climatica perché comunque ferma il riscaldamento estivo. Questo posto, con tutte le piante che ha, è un'oasi termica che rinfresca quasi tutto il quartiere perché il beneficio, anche se non viene mai al parco, lo senti fino a casa tua. Quindi l'attenzione che diamo è alla conservazione puntuale, precisa dei valori. Poi se vogliamo aprire un sentiero, vogliamo fare una chiaria per metterci una panchina, lo possiamo fare, ma lo si fa in maniera competente sapendo quello che si taglia, sapendo perché si taglia, sapendo che risposta ha quella pianta, perché ogni pianta risponde a modo suo, secondo la sua specie. Questo è un intervento massivo che non ha nessunissimo senso solo quello di distruggere. Fra gli ambientalisti c'è chi ha ricordato come fino al 2020 ci fosse già una gestione diversa e continuativa fra Comune, Marche Multiservizi e un comitato di esperti ambientali come Andrea Fazzi. Questo contratto comportava per il Comune una spendita di all'incirca 200 mila euro. Dal 2021 questo contratto non c'è più, il Comune sta risparmiando soldi, sta speculando se vogliamo dire soldi sul parco Miralfiore, questo va detto, perché ora la gestione è affidata sì al Comune, ma siccome il Comune non ha propri mezzi e uomini, affida interventi spot a una cooperativa, benemerita sotto tanti altri aspetti, una cooperativa sociale, molto benemerita sotto altri aspetti, ma che non ha competenze specifiche nella gestione di un patrimonio come quello del Miralfiore. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa sì di protesta, ma soprattutto di proposta. Nella raccolta firme, nella petizione di raccolta firme che nel banchetto qua dietro stiamo facendo. Proteste, ma anche proposte per il parco, elencate in sei punti della petizione. Abbiamo messo una serie di sì, nel senso che noi chiediamo al Comune una concertazione per arrivare, lo dico in sintesi, ma i punti alla petizione sono parecchi, quello di arrivare a una gestione condivisa, Comune, all'affidamento a un organismo competente per la gestione del verde pubblico, che possa essere Aspes, secondo noi, ma possa essere anche un'altra gestione comunque affidata con un bando pubblico, quindi non con interventi dati a chi che sia, comunque a una cooperativa, ma con un bando pubblico. Chiediamo che vengano messi a bilancio soldi, almeno quelli che erano fino al 2020, e chiediamo la ricostituzione di un comitato di gestione. Ed oggi tante fabbriche delle peserese hanno osservato un'ora di sciopero simbolico verso la strage silenziosa degli incidenti mortali sul lavoro e degli infortuni. Numeri in crescita nel territorio marchigiano che ci vengono ricordati dai sindacati CGL Cisle Wille che questa mattina si sono ritrovati in piazza esponendo alcune proposte al prefetto. 19 incidenti mortali sul lavoro da gennaio a luglio 2022. Questo il drammatico dato che riguarda la regione Marche, un dato regionale al quale si aggiungono i 10.352 infortuni sul lavoro, una cifra che denota un aumento del 25% di infortuni sul lavoro. È una strage silenziosa, una strage che nel 2022 conta 600 incidenti mortali in tutta Italia, una situazione che si declina in questi giorni in diversi presidi. Ieri la giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro, oggi i riflettori accesi in tutte le fabbriche per quello che riguarda uno sciopero di un oro, uno sciopero simbolico con assemblee pubbliche organizzate in tutte le aziende, eccezione fatta per quelle dei servizi essenziali, ma soprattutto bandiera al vento anche in piazza del popolo, qui all'angolo tra via Branca e piazza del popolo, CGL, Cisle, Wille unite per chiedere più attenzione, più prevenzione, una richiesta che viene portata fino al tavolo del prefetto Ricciardi. Noi abbiamo bisogno che ci siano servizi di prevenzione efficienti, che siano ispettori che possano verificare sui luoghi di lavoro, che abbiamo bisogno che l'INAI faccia il proprio lavoro, che le stazioni appaltanti, soprattutto gli appalti pubblici, siano il più possibile attenti al problema degli inforti sui luoghi di lavoro e abbiamo bisogno di una cultura, di far crescere una cultura anche dentro le imprese, per cui chiediamo con questa iniziativa che facciamo qui a Pesaro, ma che poi avrà un epilogo a Roma il 22 di ottobre, appunto chiediamo che ci sia un'attenzione e un focus per poter far emergere questo problema e trovare insieme delle soluzioni per poter far ridurre questo numero. Noi abbiamo bisogno appunto di un tavolo che metta insieme tutti i soggetti, a partire dalle istituzioni, a partire appunto dagli ispettori del lavoro e dall'ASUR, per cui questa è la priorità. Oggi facciamo questo presidio e nelle fabbriche abbiamo proclamato appunto lo sciopero di un'ora e poi è assolutamente non necessario ma urgente convocare le parti sociali e le istituzioni per affrontare il problema. C'è anche da tenere presente che gli infortuni che vengono denunciati non sono tutti quelli, ahimè tristemente, che succedono sul luogo di lavoro, perché purtroppo capita che nelle aziende non sempre viene denunciato l'infortunio, quindi le cifre che abbiamo sono solo quelle che emergono dalle denunce che vengono fatte. Purtroppo questa dinamica è una dinamica che ci portiamo dietro da troppi anni e abbiamo bisogno che le istituzioni in primis si attivino in maniera molto più importante rispetto a quello che è avvenuto fino ad oggi, facendo le giuste assunzioni per quanto riguarda tutti i dipartimenti di prevenzione e per quanto riguarda gli ispettorati del lavoro, ma allo stesso tempo abbiamo la necessità di costruire ancora di più una cultura della sicurezza che è trasversale, che va dalle imprese ma che passa anche per i lavoratori. E dunque avete visto presidi ambientalisti, presidi sindacali ma anche presidi sociali, come quello che sabato ha redunato tante donne pesaresi in piazzale Lazzarini per solidarizzare con la causa femminile iraniana. In tutta Italia, così come in piazzale Lazzarini a Pesero, sabato 8 ottobre, decine di donne si sono ritrovate per manifestare la loro solidarietà alla battaglia di diritti civili delle donne iraniane. Un passaggio di forbici per un taglio di ciocche di capelli collettivo che rappresenta un piccolo grande gesto di ribellione che sta rimbalzando a livello planetario. Siamo qui, il gruppo di Pesero di Ames International, insieme a tutte le persone convenute davanti al teatro Rossini, luogo di cultura, per rappresentare la nostra solidarietà alle donne iraniane che stanno veramente rischiando la vita. 185 persone risulta ad oggi che siano morte a seguito degli scontri con la polizia. La repressione in Iran in questo momento è fortissima e veramente le persone mettono a rischio la propria vita, la propria incolumità per difendere il semplice diritto alla libertà, la libertà di vestirsi come si vuole, la libertà di essere se stessi. Parliamo delle donne a cui viene imposto il velo e che vengono arrestate se una ciocca esce dal velo. Parliamo delle persone appartenenti alle comunità LGBT che semplicemente per essere quello che sono, sono soggette a arresto e condanni a morte come le due persone che attualmente Ames si segue in carcere in Iran, proprio condannate a morte. Al termine di una approfondita istruttoria, la Regione Marche attraverso l'assessore Stefano Aguzzi ha espresso questo pomeriggio parere negativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico di 45 ettari da collocare in un terreno agricolo nelle comune di Cartoceto al confine con quello di Fano. Due comuni che avevano già dato analoghi pareri negativi. Le motivazioni espresse per la valutazione di impatto ambientale parlano di un impianto che stravolgerebbe l'attuale vocazione agricola con potenziali ripercussioni economiche e potenziali impatti negativi significativi sugli aspetti geomorfologici e idrogeologici. Il parere della Regione però si ricorda non è vincolante ma è stato richiesto dal Ministero della Transizione Ecologica che gestisce il procedimento per questa realizzazione. Ministero al quale ora spetta l'ultima parola. 25 ricoveri da Covid-19 in più in una sola giornata e quanto si è registrato oggi nelle Marche. Si tratta tutti di ricoveri nei reparti non intensivi che fanno salire il numero complessivo delle degenze ospedaliere da 80 a 105. Tra i ricoverati sono due quelli in terapia intensiva e 5 quelli in semi-intensiva contrassegnando numeri stabili come stabile e l'incidenza da contagio con 559 casi ogni 100.000 abitanti. Ed ora ci spostiamo nelle comune di Fano dove nei giorni scorsi Cora Fattori è diventata la nuova assessora con delega a cultura, ambiente e digitalizzazione. Un settimo assessore che comporta anche dei trasferimenti di deleghe nella giunta delle sindaco seri. 41 anni, laureata in ingegneria edile e architettura, libera professionista, appassionata di edilizia e cultura, oltre che sostenitrice di un ambientalismo pragmatico che mette al centro imprenditoria e analisi energetica. Si descrive così Cora Fattori, new entry della giunta comunale lefanese, pronta a dare il suo contributo facendo leva sulle sue competenze specifiche e sulla sua visione di ambiente quanto mai concreta. Il sindaco ha riconosciuto questa cosa e mi ha chiesto di entrare con delle deleghe specifiche nell'amministrazione e per questo lo ringrazio perché vedo che con le deleghe dedicate ha compreso a pieno quello che è il mio pensiero politico. Io sono iscritta a Più Europa, faccio parte dell'Assemblea nazionale di Più Europa e anche Più Europa di cui faccio parte da sempre affronta le stesse tematiche allo stesso modo. È stata Barbara Brunori a ereditare le deleghe della dimissionaria Fabiola Tonelli, lasciando però quella la partecipazione a Etienne Lucarelli. Cultura, ambiente e digitalizzazione sono invece ora nelle mani di Cora Fattori, un trissi inedito che concettualmente parte addirittura da Vitruvio e dal connubio tra architettura e consapevolezza ambientale e che ora si apre a tutta una serie di sfide particolarmente attuali. Saranno delle sfide enormi, abbiamo un caro energia che ci ha sorpreso, si lavora da anni, anche la comunità europea lavora da anni per fare efficientare gli immobili pubblici e privati, tanto è vero che con la delega consigliare che avevo l'efficientamento energetico fin dal 2019, in tempi non sospetti, parlavamo di efficientamento energetico, abbiamo già lavorato in questo senso, però adesso il rincario è diventato molto grave, sarà un momento difficile per le famiglie e anche per la pubblica amministrazione, il nostro dovere è cercare di mettere in atto delle politiche che possano cercare di arginare i problemi, un'amministrazione locale può poco, però quel poco lo deve fare, lo deve fare con coscienza, consapevolezza e professionalità. Sul fronte culturale invece l'orizzonte è il 2024, Pesaro capitale italiana della cultura rappresenta infatti un'importante occasione anche per Fano. Ricordiamoci che siamo un territorio coeso e Pesaro 2024 è un'importante occasione per Pesaro ma anche per Fano, ci saranno dei giorni dedicati alla città di Fano in questo incontro, Fano deve essere pronta, preparata ad accogliere, a far conoscere il suo ricco patrimonio culturale, abbiamo un mondo di associazioni che ci possono aiutare in questo, dovranno aiutarci in questo e sarà mio dovere aprire le braccia, aprire le orecchie e ascoltare e cercare di mettere in atto una progettualità migliore. Poi c'è la digitalizzazione, è guai a definirla una delega secondaria, per Cora Fattori si tratta infatti di una strada irrinunciabile se si desidera un'amministrazione più efficiente e un'azione ambientale più determinante. L'importanza del digitale è sotto gli occhi di tutti, soprattutto a seguito della pandemia, ma fin da prima il digitale ci permette di ottimizzare le risorse, di spendere meno e spendere meglio. Se noi spendiamo meno e meglio come pubblica amministrazione ne guadagnano i cittadini perché abbiamo più respiro per i servizi e quindi è un settore assolutamente strategico che con l'ambiente va a braccetto e va a braccetto anche con la cultura e poi scoprirete il perché. Abbiamo diverse cose da far conoscere sul quale il Comune di Fano sta lavorando da anni e molto importanti. Tornano i ciclamini della solidarietà di Ant. Fino al 31 ottobre si possono infatti sostenere le visite di prevenzione oncologica e l'assistenza domiciliare che Fondazione Italia Ant Onlus offre gratuitamente ai malati e alle loro famiglie. Fra le proposte di quest'anno ricordiamo il ciclamino in vaso confezionato ad offerta di 15 euro e diffusori ambientali in varie essenze a 13 euro. Parliamo di cultura. Da giovedì 13 ottobre si apre il sipario sulla nuova stagione di prosa del teatro sperimentale di Pesero promossa da Amat. Fino a domenica 16 ottobre la scena è per edificio tre storia di un intento assurdo. Una commedia diretta da Claudio Tolcascir, acclamato drammaturgo e regista argentino che in Italia ha trovato una seconda patria. Fra gli interpreti ricordiamo Rosario Lisma, Valentina Picello, Giorgia Senesi, Stella Piccioni e Emanuele Turetta. Lo spettacolo che è stato osannato dalla critica al debutto della scorsa stagione racconta di cinque personaggi che condividono lo spazio ristretto di un ufficio e le loro vicende si intrecciano con momenti di commozione, effetti groteschi e comicità. Il team motociclistico animalista Cuori in corsa dell'amico di Rossini TV Giacomo Lucchetti organizza per sabato 16 ottobre Battito Romagnolo, ovvero un tour da Pesero al Misano World Circuit per una giornata di gare tra cui la 2 Italian GP in cui il team è direttamente impegnato. Ritrovo alla palla di pomodoro alle 9 di mattina. Nel weekend di Misano Lucchetti presenterà anche Zampa, cioè il nuovo casco realizzato da G-Design Pesero che assieme a Carina Randazza sosterrà la campagna contro l'abbandono e il traffico di animali. Un casco che è stato realizzato dal designer Alessandro Giura. E passiamo dalle 2 alle 4 ruote perché nel weekend appena trascorso è stato spettacolo sui tornanti del San Bartolo con la quinta edizione della Coppa Faro che ha premiato il pilota torinese Mario Massaglia con la sua Osella PA 990. È stato infatti suo il miglior tempo nei 3 km 800 metri di gara della panoramica valevoli per il campionato italiano velocità in salita per auto storiche. Un'edizione della Coppa Faro contrassegnata da 83 auto per altrettanti equipaggi provenienti da ogni regione italiana eppure dall'Austria. Dietro a Massaglia, secondo posto per il pilota siciliano Totò Riolo e terzo per il lucano Antonio Lavieri. Ed è stato davvero un weekend da incorniciare per lo sport pesarese dal basket al calcio fino al rugby, grandi vittorie per WL, Vis e Fiorini Pesero Rugby. All'ultimo secondo Abdul Rahman si inventa un canestro pazzesco che sigilla il 90-89 finale con cui la Carpegna Prosciutto Pesero batte Venezia nel debutto stagionale alla Vitri Frigo Arena. Seconda vittoria su due in stagione per la WL, con largo scarto quella di Trieste con minimo divario quella con Venezia. Un successo all'ultimo secondo che diventa benzina sull'entusiasmo già roventato dei tifosi pesaresi che vedono la WL avanti sempre per tre quarti di match salvo essere ripresi dalla rimonta dell'Umana nelle finale di gara. Una rimonta ricacciata indietro dal canestro finale di Mars che dà corpo ad una vittoria meritata con Cravici, Momoretti e Tambone best scorer a 15 punti. Repegia nel post partita ha ringraziato innanzitutto i tifosi sesto uomo decisivo per la vittoria e poi chi in campo ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Una partita straordinaria con un avversario molto forte, una vittoria fatta con una grande sofferenza ma con pieno merito. Sarebbe peccato se avessimo perso veramente perché siamo stati 38-39 minuti avanti e come avete visto tutti siamo rimasti senza benzina perché siamo molto più corti rispetto loro e alla fine abbiamo pacato questa cosa prima di tutto, poca lucidità contro zona e sofferenza sotto il nostro canestro dove hanno preso tantissimi ribalzi in attacco e tantissime palli vaganti che potevamo prendere noi uguali. Gioisce la VL fa altrettanto la Vispesero che al Benelli ha ragione di una partita ingarbugliata grazie al gol di Fedato che al 63esimo segna di testa il gol della vittoria 1-0 e spedisce i peseresi col vento in poppa al prossimo derby in trasferta con Rimini. Derby che sarà però accompagnato anche da qualche problema perché la vittoria col San Donato costa benne tre infortunati alla Vis, Rossoni, Marcandella e Gavazzi non tutelati da un arbitraggio del tutto inadeguato. In Serie D vince anche il Fano al Mancini battendo 2-0 il Roma City grazie alle reti di Pensalfini al 59esimo e Broso all'89esimo. Festeggia anche la Fiorini-Pesero Rugby che dopo l'esordio urticante in Casa Lazio bagna il debutto al Toti Padrignani mettendo a segno 5 mete per il 36-14 con cui i ragazzi di Allori hanno la meglio sui capitolini delle primavera rugby. E con lo sport si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. TG che per chi ci segue nella prima edizione delle 19.40 viene seguito dalle pillole dallo spazio Salute San Decento. Vi ricordiamo infatti questo appuntamento che va in onda tutti i lunedì alle 20.10 subito dopo il telegiornale tanti approfondimenti da questo spazio Salute della città con tanti aspetti che vanno dalla farmacia alla parafarmacia agli aspetti medici e a quelli fisioterapici. Appuntamento tutti i lunedì alle 20.10 e poi le tante repliche che vedete in grafica ogni giorno della settimana. E poi vi ricordo la prima serata, questa sera spazio alla TV dei viaggi alle 21.20 andremo alla scoperta del Marocco. E poi la esclusiva di Rossini TV, quella con le partite indifferita della Fiorini-Pesaro Rugby. Ne abbiamo parlato nel TG, rivedrete tutta la prima partita casalinga dei Kiwi giallorossi coincisa anche con la prima vittoria. Pesaro Rugby contro i Romani del Primavera Rugby questa sera alle 22.00. E poi l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. E poi facciamo un salto in avanti a domani, torna Green Tour, una nuova attesa puntata di questo splendido programma realizzato dalle nostre Nicoletta Tagliabracci e Veronica Mastro-Giacomi alla scoperta delle bellezze del territorio e delle sue tipicità enogastronomiche. Puntata di martedì 11 ottobre che sarà dedicata a Frontino, appuntamento alle 21.20 e poi le repliche dalle mercoledì alla domenica come potete vedere in grafica. E dunque tanti appuntamenti su Rossini TV. Si conclude invece qui il nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie. Grazie.